Meritavano tutte e due le squadre, perché è vero che Gara 2 ha avuto il risultato più netto, ma due set sono stati combattuti e Novara è stata in vantaggio fino alla fine. Quindi credo che sia stata una bella battaglia da vedersi e io sono molto orgoglioso del lavoro fatto, perché quando una squadra sotto 2-0 per due volte continua a lottare, non mola anche in una situazione obiettivamente di stanchezza di tutte e due le squadre, che oggi contavamo la nostra quarantesima partita ufficiale, però l'atteggiamento, la voglia, la fame, la determinazione, tutto della squadra, perché oggi ha vinto la squadra. Sono proprio contento, godiamoci una sera perché il calendario non ci permette neanche un grosso recupero.